Geremia, capitolo trentaseesimo Ora venne l'anno quarto di Gioia a Chin, figliolo di Giosia, re di Giuda, che questa parola fu rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini. Prenditi un rotolo da scrivere, e scrivici tutte le parole che t'ho dette contro Israele, contro Giuda, e contro tutte le nazioni dal giorno che cominciai a parlarti, cioè dal tempo di Giosia fino a quest'oggi. Forse quei della casa di Giuda, udendo tutto il male che io penso di far loro, si convertiranno ciascuno dalla sua via e dalla sua malvagità, ed io perdonerò le loro iniquità e il loro peccato. Allora Geremia chiamò Baruch, figliolo di Neria, e Baruch scrisse in un rotolo da scrivere a dettatura di Geremia tutte le parole che l'Eterno aveva dette a Geremia. Poi Geremia diede quest'ordine a Baruch, io sono impedito e non posso entrare nella casa dell'Eterno, perciò va tu, e leggi dal libro che hai scritto a mia dettatura le parole dell'Eterno in presenza del popolo nella casa dell'Eterno il giorno del digiuno, e leggile anche in presenza di tutti quei di Giuda che saranno venuti dalle loro città. Forse, presenteranno le loro supplicazioni all'Eterno, e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia, perché l'ira e il furore dell'Eterno ha espresso contro questo popolo, sono grandi. E Baruch, figliolo di Neria, fece tutto quello che gli aveva ordinato il profeta Geremia, e lesse il libro delle parole dell'Eterno. Or, l'anno quinto di Gioia, chin figliolo di Giosia, re di Giuda, il nono mese, fu pubblicato un digiuno nel cospetto dell'Eterno per tutto il popolo di Gerusalemme, e per tutto il popolo venuto dalle città di Giuda a Gerusalemme. E Baruch lesse dal libro le parole di Geremia in presenza di tutto il popolo nella casa dell'Eterno, nella camera di Ghe Maria, figliolo di Schaffan, segretario del cortile superiore, all'ingresso della porta nuova della casa dell'Eterno. Or, Micaiah, figliolo di Ghe Maria, figliolo di Schaffan, udì tutte le parole dell'Eterno lette dal libro, scese nella casa del re, nella camera del segretario, ed ecco che qui vi stavano seduti tutti i capi. Elisciama, il segretario, Delahia, figliolo di Shemaia, Elnatan, figliolo di Akbor, Gemaria, figliolo di Schaffan, Sedechia, figliolo di Hanania, e tutti gli altri capi. E Micaiah riferì tutte le parole che aveva udite mentre Baruch leggeva il libro in presenza del popolo. Allora tutti i capi mandarono Gehudi, figliolo di Netnania, il figliolo di Shemania, figliolo di Cusci, a Baruch per dirli, Prendi in mano il rotolo del quale tu hai letto in presenza del popolo, e vieni. E Baruch, figliolo di Neria, prese in mano il rotolo, e venne a loro. Ed essi gli dissero, Siediti, e leggilo qui a noi. E Baruch lo lesse in loro presenza. E quand'essi ebbero udito tutte quelle parole, si volsero spaventati gli uni agli altri, e dissero a Baruch, Non mancheremo di riferire tutte queste parole al re. Poi chiesero a Baruch, Dici ora come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca. E Baruch rispose loro, Egli mi ha dettato di bocca sua tutte le parole, e io le ho scritte con inchiostro nel libro. Allora i capi dissero a Baruch, Vatti a nascondere tanto tu quanto Jeremia, e nessuno sappia dove siete. Poi andarono dal re nel cortile, ripossero il rotolo nella camera di Elisciama segretario, e riferirono al re tutte quelle parole. E il re mandò Jehudi a prendere il rotolo, ed egli lo prese dalla camera di Elisciama segretario, e Jehudi lo lesse in presenza del re, e in presenza di tutti i capi che stavano in pie al lato del re. Ora il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno, era il nono mese, e il bracere ardeva davanti a lui. E quando Jehudi ebbe letto tre o quattro colonne, il re tagliò il libro col temperino e lo gettò nel fuoco del bracere, dove il rotolo fu interamente consumato dal fuoco del bracere. Né il re, né alcuno dei suoi ervitori che udirono tutte quelle parole, rimasero spaventati o si stracciarono le vesti. E benché El-Natham della Ia, Gemaria, supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo, egli non volle dal loro ascolto. E il re ordinò a Geramil, figliuolo del re, e a Sessaia, figliuolo di Azril, e a Shelemia, figliuolo di Abdeel, di pigliare Baruch, segretario, e il profeta Geremia. Ma l'Eterno li nascose. E dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini. Prenditi di nuovo un altro rotolo, e scrivisci tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo che Gioia Kim, re di Giuda, ha bruciato. E riguardo a Gioia Kim, re di Giuda, tu dirai, Così parla l'Eterno. Tu hai bruciato quel rotolo dicendo, Perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese, e farà sì che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla l'Eterno riguardo a Gioia Kim, re di Giuda. Egli non avrà alcuno che segga sul trono di Davide, e il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Ed io punirò lui, la sua progenie, i suoi servitori della loro iniquità, e farò venire su loro, sugli abitanti di Gerusalemme, e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunziato contro di loro, senza che essi m'abbiano dato ascolto. E Geremia prese un altro rotolo e lo diete a Baruch, figliuolo di Nerìa, segretario, il quale vi scrissi a dettatura di Geremia tutte le parole del libro che Gioia Kim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole, simile a quelle. Geremia, capitolo trentasettesimo Or, il re Sedechia, figliuolo di Giosia, regnò in luogo di Conia, figliuolo di Gioia Kim, e fu costituito re nel paese di Giuda da Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Ma ne egli, nei suoi servitori, nel popolo del paese, dettero ascolto alle parole che l'Eterno aveva pronunziate per mezzo del profeta Geremia. Il re Sedechia mandò Geucal, figliuolo di Scelemia, e Sofonia, figliuolo di Maeseia, il sacerdote, dal profeta Geremia per dirgli, De prega per noi l'Eterno, lì Dio nostro. Or Geremia andava e veniva fra il popolo, e non era ancora stato messo in prigione. E l'esercito di Faraone, che era uscito d'Egitto, e come i caldei che assediavano Gerusalemme, ne ebbero ricevuto la notizia, tolsero l'assedio a Gerusalemme. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta Geremia in questi termini. Così parla l'Eterno, lì Dio di Israele. Dite così al re di Giuda, che vi ha mandati da me per consultarmi. Ecco, l'esercito di Faraone, che era uscito in vostro soccorso, è tornato nel suo paese in Egitto, e i caldei torneranno e combatteranno contro questa città, e la prenderanno e la daranno alle fiamme. Così parla l'Eterno. Non ingannate voi stessi, dicendo, certo i caldei se ne andranno da noi, perché non se ne andranno. Anzi, quando anche voi sconfiggeste tutto l'esercito dei caldei che combatte contro di voi, e non ne rimanesse che degli uomini feriti, questi si leverebbero ciascuno dalla sua tenda, e darebbero questa città alle fiamme. Or, quanto all'esercito dei caldei, che si fu ritirato innanzi a Gerusalemme a motivo dell'esercito di Faraone, Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino, per ricever quivi la sua porzione in mezzo al popolo. Ma quando fu alla porta di Beniamino, c'era quivi un capitano della guardia per nome Ireia, figliolo di Scelemia, figliolo di Anania, il quale arrestò il profeta Geremia, dicendo, Tu vai ad arrenderti ai caldei. E Geremia rispose, È falso, io non vado ad arrendermi ai caldei, ma l'altro non gli diede ascolto, arrestò Geremia e lo menò dai capi. E i capi s'adirarono contro Geremia e lo percossero e lo misero in prigione nella casa di Gionatà, il segretario, perché di quella si era fatto un carcere. Quando Geremia fu entrato nella prigione sotterranea tra le segrete e vi fu rimasto quivi molti giorni, il re Sedechia lo mandò a prendere, lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse, C'è egli qualche parola da parte dell'Eterno? E Geremia rispose, Sì, c'è, e aggiunse, Tu sarai dato in mano del re di Babilonia. E Geremia disse inoltre al re Sedechia, Che peccato ho io commesso contro di te o contro i tuoi servitori o contro questo popolo che mi avete messo in prigione? E dove sono ora i vostri profeti che vi profetavano, dicendo, Il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese? Ora ascoltati, prego, re mio signore, e la mia supplicazione giunga bene accolta nel tuo cospetto. Non ti far tornare nella casa di Gionatablo, scriva, sì che io vi muoia. Allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse costudito nel cortile della prigione, e gli fosse dato tutti i giorni del pane della vita dai fornai, finché tutto il paese della città fosse consumato. Così Geremia rimase nel cortile della prigione. Geremia, capitolo trentottesimo Scefatia, figliolo di Mattam, Ghedalia, figliolo di Pasciur, Giucal, figliolo di Scelamia, e Pasciur, figliolo di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo dicendo, Così parla l'Eterno. Chi rimarrà in questa città morrà di spada, di fame o di peste. Ma chi andrà ad arrendersi ai caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla l'Eterno. Questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà. E i capi dissero al re, De, sia quest'uomo messo a morte, poiché gli rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangano in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro cotali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo. Allora il re Sedechia disse, Ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi. Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figliuolo del re che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango. E Geremia affondò nel fango. Or, Ebed-Melec, etiopo, enucco che stava nella casa del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melec uscì dalla casa del re e parrò al re dicendo, O re mio signore, quegli uomini hanno male agito in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia che hanno gettato nella cisterna. Egli morrà di fame laddove è, giacché non vè più pane in città. E il re diede quest'ordine a Ebed-Melec l'Etiopo, Prendi teco di qui trenta uomini e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Ebed-Melec prese seco degli uomini, entrò nella casa del re sotto il tesoro, prese di lì dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna con delle funi. Ed Ebed-Melec l'Etiopo disse a Geremia, Mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi. E Geremia fece così. E quelli trassero su Geremia con quelle funi e lo fecero salir fuori dalla cisterna e Geremia rimase nel cortile della prigione. Allora il re Zedekia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa dell'Eterno e il re disse a Geremia, Io ti domando una cosa, non mi scelar nulla. E Geremia rispose a Sedechia, Se te la dico non è egli certo che mi farai morire? E se ti do qualche consiglio non mi darai ascolto? E il re Sedechia giurò in segreto a Geremia dicendo, Com'è vero che l'Eterno il quale ci ha dato questa vita vive, io non ti farò morire e non ti darò in mano a questi uomini che cercano la tua vita. Allora Geremia disse a Sedechia, Così parla l'Eterno l'Idio degli eserciti, l'Idio di Israele. Se tu ti vai ad arrendere ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme e vivrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano dei caldei che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani. E il re Sedechia disse a Geremia, Io temo quei giudei che si sono arresi ai caldei che io non abbia ad essere dato nelle loro mani e che essi non mi scherniscano. Ma Geremia rispose, Tu non sarai dato nelle loro mani. O Dea, ascolta la voce dell'Eterno in questo che io ti dico, tutto andrà bene per te e tu vivrai. Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che l'Eterno mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno menate fuori nei campi ai capi del re di Babilonia e queste donne diranno I tuoi familiari e amici t'hanno incitato, t'hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati e le tue mogli con i tuoi figlioli saranno menate a caldei e tu non scamperai dalle loro mani ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia e questa città sarà data alle fiamme. E Sedechia disse a Geremia Nessuno sappia nulla di queste parole e tu non morrai e se i capi odono che io ho parlato teco e vengono da te a dirti dichiaraci quel che tu hai detto al re non ce lo scelare e non ti faranno morire. È il re che te l'ha detto. Rispondi loro Io ho presentato al re la mia supplicazione che egli non mi facesse tornare nella mia casa di Jonathan per morirvi. E tutti i capi vennero a Geremia e lo interrogarono ma egli rispose loro secondo tutte le parole che il re gli aveva comandate e quelli lo lasciarono in pace perché la cosa non si era divulgata. E Geremia rimase nel cortile della prigione fino al giorno che Gerusalemme fu presa. Geremia capitolo trentanovesimo Quando Gerusalemme fu presa il nono anno di Sedechia re di Giuda il decimo mese Nebuchadnezzare di Babilonia venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme la scinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia il quarto mese il nono giorno una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo Nerga Serezzer Samgal Nebu Sarzekin capo degli Enucchi Nargea Serezzer capo dei Maghi e tutti gli altri capi del re di Babilonia. E quando Sedechia re di Giuda e tutta la gente di guerra li ebbero veduti fuggirono uscirono di notte dalla città per la via del giardino reale per la porta fra le due mura e presero la via della pianura ma l'esercito dei caldei li inseguì e raggiunsero Sedechia nelle campagne di Gerico lo presero lo menarono su da Nebucadnese re di Babilonia a Ribla nel paese di Amath dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui e il re di Babilonia fece scannare i figlioli di Sedechia a Ribla sotto gli occhi di lui il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda poi fece cavare gli occhi a Sedechia e lo fe legare con una doppia catena di rame per menarlo in Babilonia i caldei incendiarono la casa del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme e Nebuzaradam capo delle guardie menò in cattività a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo ma Nebuzaradam capo delle guardie lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo i quali non avevano nulla e diede loro in quel giorno vigne e campi or Nebucannese il re di Babilonia aveva dato a Nebuzaradam capo delle guardie quest'ordine riguardo a Geremia prendilo veglia su lui e non gli fare alcun male ma comportati verso di lui come egli ti dirà così Nebuzaradam capo delle guardie Nebushazban capo degli enucchi Nergazerezzer capo dei maghi e tutti i capi del re di Babilonia mandarono a far trarre Geremia fuori dal cortile della prigione e lo consegnarono a Gedalia figliolo di Haikam figliolo di Shafam perché fosse menato a casa e così egli abitò fra il popolo ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini mentre egli era rinchiuso nel cortile della prigione va e parla Abed Admelech l'Etiopo e digli così parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio di Israele ecco io sto per adempire su questa città per il suo male e non per il suo bene le parole che ho pronunziate e in quel giorno esse si avvereranno in tua presenza ma in quel giorno io ti libererò dice l'Eterno e tu non sarai dato in mano agli uomini che temi poiché certo io ti farò scampare e tu non cadrai per la spada la tua vita sarà il tuo bottino giacché hai posto la tua fiducia in me dice l'Eterno Geremia capitolo quarantesimo la parola che fu rivolta dall'Eterno a Geremia dopo che Nebusaradan capo delle guardie l'ebbe rimandato da Rama quando questi lo fece prendere Geremia era incatenato in mezzo a tutti quelli di Gerusalemme e di Giuda che dovevano essere menati in cattività a Babilonia il capo delle guardie presse dunque Geremia e gli disse l'Eterno il tuo Dio aveva pronunziato questo male contro questo luogo e l'Eterno l'ha fatto venire e l'ha fatto come aveva detto perché voi avete peccato contro l'Eterno e non avete dato ascolto alla sua voce perciò questo è avvenuto ora ecco io ti sciolgo oggi dalle catene che hai alle mani se ti piace di venire con noi a Babilonia vieni e io avrò cura di te ma se non ti aggrada di venire con me a Babilonia rimanetene ecco tutto il paese ti sta d'innanzi va dove ti piacerà e ti converrà d'andare e come Geremia non si decideva tornare con lui l'altro aggiunse torna torna da Gedalia figliolo di Eachim figliolo di Shafan che il re di Babilonia stabilito sulle città di Giuda e dimora con lui in mezzo al popolo ovvero va dovunque ti piacerà e il capo delle guardie gli dette delle provviste un regalo e la comietò e Geremia andò da Gedalia figliolo di Eachim a Mizpah e dimorò con lui in mezzo al popolo che era rimasto nel paese or quando tutti i capi delle forze che erano per le campagne ebbero inteso essi e la loro gente che il re di Babilonia aveva stabilito Gedalia figliolo di Eachim sul paese e che egli aveva affidato agli uomini le donne i bambini e quelli tra i poveri del paese che non erano stati menati in cattività a Babilonia si recarono da Gedalia a Mizpah erano Ishmael figliolo di Netania Joanan Jonathan figliolo di Carreac Serraia figliolo di Tantumet e i figlioli di Efai di Netofa e di Giasania figliolo di Maacatita essi e i loro uomini e Gedalia figliolo di Aicam figliolo di Shafan giurò loro e alla loro gente dicendo non temete di servire i caldei abitate nel paese servite il re di Babilonia e tutto andrà bene per voi quanto a me ecco io residerò a Mizpah per tenermi agli ordini dei caldei che verranno da noi e voi raccoglierete il vino le frutte d'estate e l'olio metteteli nei vostri vasi dimorate nelle città di cui avete preso possesso anche tutti i giudei che erano in Moab fra gli Ammoniti nel paese di Edom e in tutti i paesi quando dirono che il re di Babilonia aveva lasciato un residuo in Giuda e che aveva stabilito su di loro Gedalia figliolo di Aicam figliolo di Shafan se ne tornarono da tutti i luoghi dove erano stati dispersi e si recarono nel paese di Giuda da Gedalia a Mizpah e raccolsero vino e frutta d'estate in grande abbondanza o Gioanan figliolo di Carea e tutti i capi delle forze che erano per la campagna vennero da Gedalia a Mizpah gli dissero sai tu che Baaliss il re degli Ammoniti ha mandato Ismael figliolo di Netania per toglierti la vita ma Gedalia figliolo di Aicin non credette loro allora Gioanan figliolo di Caret disse segretamente a Gedalia a Mizpah lasciami andare ad uccidere Ismael figliolo di Netania nessuno lo risaprà perché ti toglierebbe egli la vita e tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero essi dispersi e il residuo di Giuda perirebbe egli ma Gedalia figliolo di Aicin disse a Gioanan figliolo di Caret no non lo fare perché questo che tu dici di Ismael è falso Geremia capitolo quarantunesimo e il settimo mese Ismael figliolo di Netania figliolo di Elisciama della stirpe reale e uno dei grandi del re venne con dieci uomini da Gedalia figliolo di Aiacin a Mizpah e quivi a Mizpah mangiarono assieme poi Ismael figliolo di Netania si levò con dieci uomini che erano con lui e colpirono con la spada Gedalia figliolo di Eicam figliolo di Shafam così fecero morire colui che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese Ismael uccise pure tutti i giudei che erano che non Gedalia a Mizpah e i caldei uomini di guerra che si trovavano inquivi il giorno dopo che egli ebbe ucciso Gedalia prima che alcuno ne sapesse nulla giunsero da Sichem da Shilo e da Samaria ottanta uomini che avevano la barba rasa le vesti stracciate delle incisioni sul corpo e avevano in mano delle offerte dell'incenso per presentarle alla casa dell'Eterno e Ismael figliolo di Netania uscì loro incontro da Mizpah e camminando piangeva e come li ebbe incontrati disse loro venite da Gedalia figliolo di Aikam e quando furono entrati in mezzo alla città Ismael figliolo di Netania assieme agli uomini che aveva seco li scannò e li gettò nella cisterna o fra quelli ci furono dieci uomini che dissero a Ismael non ci uccidere perché abbiamo nei campi delle provviste nascoste di grano d'orzo d'olio e di miele allora egli si trattenne e non li mise a morte con i loro fratelli ora la cisterna nella quale Ismael gettò tutti i cadaveri degli uomini che egli uccise con Gedalia è quella che il re Asa aveva fatto fare per tema di Baasa re di Israele e Ismael figliolo di Netania la riempì di uccisi poi Ismael menò via prigionieri tutto il rimanente del popolo che si trovava a Mispah le figlioli del re tutto il popolo che era rimasto a Mispah e sul quale Nebusaradan capo delle guardie aveva stabilito Gedalia figliolo di Aykam Ismael figliolo di Netania li menò via prigionieri e partì per recarsi dagli Ammoniti ma quando Gioanan figliolo di Carrea e tutti i capi delle forze che erano con lui furono informati di tutto il male che Ismael figliolo di Netania aveva fatto presero degli uomini e andarono a combattere contro Ismael figliolo di Netania e lo trovarono presso le grandi acque che sono a Gabaon e quando tutto il popolo che era con Ismael vide Gioanan figliolo di Carrea e i capi delle forze che erano con lui si rallegrò e tutto il popolo che Ismael aveva menato prigioniero da Mispa fece volta faccia e andò a unirsi a Gioanan figliolo di Carrea ma Ismael figliolo di Netania scampò con otto uomini dinanzi a Gioanan e se ne andò fra gli Ammoniti e Gioanan figliolo di Carrea e tutti i capi delle forze che erano con lui presero tutto il rimanente del popolo che Ismael figliolo di Netania aveva menati via da Mispa dopo che egli ebbe ucciso Gedalia figliolo di Aicam uomini gente di guerra donne fanciulli e nucchi e li ricondusse da Gabaon e partirono e si fermarono a Geru Kimham presso Bethlehem per poi continuare recarsi in Egitto a motivo dei caldei dei quali avevano paura perché Ismael figliolo di Netania aveva ucciso Gedalia figliolo di Ekin che il re di Babilonia aveva stabilito sul paese Geremia capitolo quarantaduesimo tutti i capi delle forze Gioanan figliolo di Carea Gesania figliolo di Osaia e tutto il popolo dal più piccolo al più grande s'accostarono e dissero al profeta Geremia De sia ti accetta la nostra supplicazione e prega l'eterno il tuo Dio per noi per tutto questo residuo poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi come lo vedono gli occhi tuoi affinché l'eterno il tuo Dio ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare e il profeta Geremia disse loro ho inteso ecco io pregherò l'eterno il vostro Dio come avete detto e tutto quello che l'eterno vi risponderà ve lo farò conoscere e nulla ve ne celerò e quelli dissero a Geremia l'eterno sia un testimonio verace fedele contro di noi se non facciamo tutto quello che l'eterno il tuo Dio ti manderà a dirci sia la tua risposta gradevole o sgradevole noi ubbidiremo alla voce dell'eterno del nostro Dio al quale ti mandiamo affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce dell'eterno del nostro Dio dopo dieci giorni la parola dell'eterno fu rivolta a Geremia e Geremia chiamò Gioanan figliolo di Carreat tutti i capi delle forze che erano con lui e tutto il popolo dal più piccolo al più grande e disse loro così parla l'eterno lì Dio di Israele al quale mi avete mandato perché io gli presentassi la vostra supplicazione se continuate a dimorare in questo paese io vi ci stabilirò e non vi distruggerò vi pianterò e non vi sradicherò perché mi pento del male che avevo fatto non temete il re di Babilonia del quale avete paura non lo temete dice l'eterno perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano io vi farò trovare compassione dinanzi a lui egli avrà compassione di voi e vi farà tornare nel vostro paese ma se dite noi non rimaremo in questo paese se non ubbidite alla voce dell'eterno del vostro Dio e dite no andremo nel paese d'Egitto dove non vedremo la guerra non udremo il suono di tromba e dove non avremo più fame di pane e qui vi dimoreremo ebbene ascoltate allora la parola dell'eterno o superstiti di Giuda così parla l'eterno degli eserciti l'iddio di Israele se siete decisi a recarvi in Egitto e se andate a dimorarvi la spada che temete vi raggiungerà là nel paese d'Egitto e la fame che paventate vi sarà le calcagna là in Egitto e qui vi morrete tutti quelli che avranno deciso di andare in Egitto per dimorarvi vi morranno di spada di fame o di peste nessuno di loro scamperà sfuggirà al male che io farò venire su loro perché così parla l'eterno degli eserciti di Dio di Israele come la mia ira e il mio furore si sono riversati sugli abitanti di Gerusalemme così il mio furore si riverserà su voi quando sarete entrati in Egitto e sarete abbandonati all'esacrazione alla desolazione e alla maledizione all'opproprio e non vedrete mai più questo luogo o superstiti di Giuda l'eterno parla a voi non andate in Egitto sappiate bene che quest'oggi io v'ho premuniti voi ingannate voi stessi a rischio della vostra vita poiché mi avete mandato dall'eterno dal vostro dio dicendo prega l'eterno il nostro dio per noi e tutto quello che l'eterno il nostro dio dirà faccelo sapere esattamente e noi lo faremo e io ve l'ho fatto sapere quest'oggi ma voi non ubbidite alla voce dell'eterno del vostro dio ne ha nulla di quanto egli mi ha mandato a dirvi or dunque sappiate bene che voi morrete di spada di fame e di peste nel luogo dove desiderate andare per dimorarvi geremia capitolo quarantatreesimo or quando geremia ebbe finito di dire al popolo tutte le parole dell'eterno del loro dio tutte le parole che l'eterno il loro dio l'aveva incaricato di dir loro azzaria figliolo di hosahia e joanam figliolo di careat e tutti gli uomini superbi dissero a geremia tu dici il falso l'eterno il nostro dio non t'ha mandato a dire non entrate in egitto per dimorarvi ma baruc figliolo di neria ti incita contro di noi per darci in mano dei caldei per farci morire o per farci menare in cattività a babilonia così joanam figliolo di carea tutti i capi delle forze e tutto il popolo non ubbidirono alla voce dell'eterno che ordinava loro di dimorare nel paese di giuda e joanam figliolo di carea e tutti i capi delle forze presero tutti i superstiti di giuda i quali di fra tutte le nazioni dove erano stati dispersi erano ritornati per dimorare nel paese di giuda gli uomini le donne i fanciulli le figlioli del re e tutte le persone che nebuzaradan capo delle guardie aveva lasciate con gedalia figliolo di aican figliolo di safan come pure il profeta geremia e baruc figliolo di neria ed entrarono nel paese d'egitto perché non ubbidirono la voce dell'eterno e giunsero a tapanes e la parola dell'eterno fu rivolta a geremia a tapanes in questi termini prendi nelle tue mani delle grosse pietre e nascondile nell'argilla della fornace da mattoni che è all'ingresso della casa di faraone a tapanes in presenza degli uomini di giuda e di loro così parla l'eterno degli eserciti di dio di israele ecco io manderò a prendere nebucadnese re di babilonia mio servitore e porrò il suo trono su queste pietre che io ho nascoste ed egli stenderà su di esse il suo padiglione reale e verrà e colpirà il paese d'egitto chi deve andare alla morte andrà alla morte e chi in cattività andrà in cattività e chi deve cadere di spada cadrà per la spada ed io appiccherò il fuoco alle case degli dei d'egitto nebucadnese brucerà le case e menerà in cattività gli idoli e si avvolgerà nel paese d'egitto come il pastore si avvolge nella sua veste e ne uscirà in pace frantumerà pure le statue del tempio del sole che è nel paese d'egitto e darà alle fiamme la casa degli dei d'egitto geremia capitolo quarantaquattresimo la parola che fu rivolta a geremia in questi termini riguardo a tutti i giudei che dimoravano nel paese d'egitto e che dimoravano a migdol a tapanes a nof nel paese di patros così parla l'eterno degli eserciti lì dio di israele voi avete veduto tutto il male che io ho fatto venire sopra gerusalemme e sopra tutte le città di giuda ed ecco oggi sono una desolazione e non vecchi abiti in esse a motivo della malvagità che hanno commessa per provocarmi ad ira andando a far profumi e a servire altri dei i quali né essi né voi né i vostri padri avete mai conosciuti e io vi ho mandati tutti i miei servitori i profeti ve li ho mandati del continuo fin dal mattino a dirvi dè non fate questa cosa abominevole che io odio ma essi non hanno ubbidito non han prestato orecchio non si sono stornati dalle loro malvagità non han cessato di offrire profumi ed altri dei perciò il mio furore la mia ira si sono riversati e han divampato nelle città di giuda nelle vie di gerusalemme che sono ridotte deserte e desolate come oggi si vede ed ora così parla l'eterno lì Dio degli eserciti lì Dio di Israele perché commettete questo grave male contro voi stessi tanto da farvi sterminare dal mezzo di giuda uomini e donne bambine e lattanti sì che non rimanga di voi alcun residuo perché provocarmi ad ira con opere delle vostre mani facendo profumi ed altri dei nel paese d'Egitto dove siete venuti a dimorare così vi farete sterminare e sarete abbandonati alla maledizione e all'opproprio fra tutte le nazioni della terra avete voi dimenticato le malvagità dei vostri padri le malvagità dei re di giuda le malvagità delle loro mogli le malvagità vostre e le malvagità commesse dalle vostre mogli nel paese di giuda e per le vie di gerusalemme fino ad oggi non vi è stata contrizione da parte loro non hanno avuto timore non hanno camminato secondo la mia legge e secondo i miei statuti che io avevo messi dinanzi a voi e dinanzi ai vostri padri perciò così parla all'eterno degli eserciti di Dio di Israele ecco io volgo la mia faccia contro di voi per il vostro male e per distruggere tutto giuda e prenderò i superstiti di giuda che si sono ostinati a venire nel paese d'Egitto per dimorarvi e saranno tutti consumati cadranno nel paese d'Egitto saranno consumati dalla spada e dalla fame dal più piccolo al più grande periranno per la spada e per la fame e saranno abbandonati all'esacrazione e alla desolazione e alla maledizione e all'oproprio e punirò tutti quelli che dimorano nel paese d'Egitto come ho punito Gerusalemme con la spada e con la fame e con la peste e nessuno si salverà o scamperà dei superstiti di Giuda che sono venuti a stare nel paese d'Egitto con la speranza di tornare poi nel paese di Giuda dove desiderano rientrare per dimorarvi essi ad eccezioni di alcuni foggiaschi non vi torneranno allora tutti gli uomini i quali sapevano che le loro mogli offrivano profumi ed altri dei tutte le donne che si trovavano qui vi riunite in gran numero e tutto il popolo che dimorava nel paese d'Egitto a Patros rispossero a Geremia dicendo quanto alla parola che ci hai detta nel nome dell'Eterno noi non ti obbediremo ma vogliamo mettere interamente ad effetto tutto quello che la nostra bocca ha espresso offrire profumi alla Regina del Cielo fare delle libazioni come già abbiamo fatto noi i nostri padri i nostri re i nostri capi nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme e avevamo allora abbondanza di pane e stavamo bene e non sentivamo alcun male ma da che abbiamo cessato d'offrire profumi alla Regina del Cielo e di farle delle libazioni abbiamo avuto mancanza di ogni cosa e siamo stati consumati dalla spada e dalla fame e quando offriamo profumi alla Regina del Cielo e le facciamo delle libazioni egli è senza il consenso dei nostri mariti che le facciamo le focacce a sua immagine e le offriamo delle libazioni e Geremia parlò a tutto il popolo agli uomini alle donne e a tutto il popolo che gli aveva risposto a quel modo e disse non son forse i profumi che avete offerti nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme voi i vostri padri i vostri rei i vostri capi e il popolo del paese quelli che l'Eterno ha ricordato e che gli sono tornati in mente l'Eterno non ha più potuto sopportare a motivo della malvagità delle vostre azioni e a motivo delle abominazioni che avete commesse perciò il vostro paese è stato abbandonato alla devastazione alla desolazione alla maledizione senza che vi sia più chi l'abiti come si vede al di d'oggi perché voi avete offerto quei profumi avete peccato contro l'Eterno e non avete ubbidito alla voce dell'Eterno e non avete camminato secondo la sua legge i suoi statuti e le sue testimonianze perciò vi è venuto questo male che oggi si vede poi Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne ascoltate la parola dell'Eterno o voi tutti di Giuda che siete nel paese d'Egitto così parla l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele voi e le vostre mogli lo dite con la vostra bocca e lo mettete ad effetto con le vostre mani voi dite vogliamo adempire i voti che abbiamo fatti offrendo profumi alla regina del cielo e facendole delle libazioni si voi adempite i vostri voti si voi mandate ad effetto i vostri voti perciò ascoltate la parola dell'Eterno voi tutti di Giuda che dimorate nel paese d'Egitto ecco io lo giuro per il mio gran nome dice l'Eterno in tutto il paese d'Egitto il mio nome non sarà più invocato dalla bocca da alcun uomo di Giuda che dica il Signore l'Eterno vive ecco io vigilo su loro per il loro male e non per il loro bene e tutti gli uomini di Giuda che sono nel paese d'Egitto saranno consumati dalla spada e dalla fame finché non siano interamente scomparsi e quelli che saranno scampati dalla spada ritorneranno dal paese d'Egitto nel paese di Giuda in ben piccolo numero e tutto il rumanente di Giuda quelli che sono venuti dal paese d'Egitto per dimorarvi riconosceranno qual è la parola che sussiste la mia o la loro e questo vi sarà per segno dice l'Eterno che io vi punirò in questo luogo affinché riconosciate che le mie parole contro di voi saranno del tutto messe ad effetto per il vostro male così parla l'Eterno ecco io darò Faraone offra re d'Egitto in mano dei suoi nemici in mano di quelli che cercano la sua vita come ho dato Sedechia re di Giuda in mano di Nebuchadenestar re di Babilonia suo nemico che cercava la vita di lui Geremia capitolo quarantacinquesimo la parola che il profeta Geremia rivolse a Baruch figliolo di Neria quando questi scrisse queste parole in un libro a dettatura di Geremia l'anno quarto di Gioia a Chin figliolo di Giosia re di Giuda e gli disse così parla l'Eterno il Dio di Israele riguardo a te Baruch tu dici guai a me poiché l'Eterno aggiunge tristezza al mio dolore io ma fanno a gemere e non trovo requie digli così così parla l'Eterno ecco ciò che ho edificato io lo distruggerò ciò che ho piantato io lo sradicherò e questo farò in tutto il paese e tu cercheresti grandi cose per te non le cercare poiché ecco io farò venire del male sopra ogni carne dice l'Eterno ma a te darò la vita come bottino in tutti i luoghi dove andrai Geremia capitolo quarantaseiesimo riguardo all'Egitto cerca l'esercito di Faraone Neco re d'Egitto che era presso al fiume Eufrate a Carmesh e che Nabucodonestà re di Babilonia sconfisse il quarto anno di Gioia a Chin figliolo di Giosia re di Giuda preparate lo scudo e la targa e avvicinatevi per la battaglia attaccate i cavalli e voi cavalieri montate e presentatevi con gli elmi in capo forbite le lance e indossate le corazze perché io vi vego sbigottiti io vi vego volti in rotta i loro prodi sono sconfitti si danno alla fuga senza volgersi indietro d'ogni intorno è terrore dice l'Eterno il veloce non fuga il prode non scampi al settentrione presso il fiume Eufrate vacillano e cadano chi è colui che sale come il nilo e le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi è l'Egitto che sale con me il nilo le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi e gli dice io salirò ricoprirò la terra distruggerò le città i loro abitanti all'assalto cavalli al galoppo carri si facciano avanti i prodi quei d'Etiopia e di Put che portino lo scudo e quei di Lud che maneggiano e tendano l'arco questo giorno per il Signore per l'Eterno degli eserciti è giorno di vendetta in cui si vendica dei Suoi nemici la spada divorerà si sazierà si inebrierà del loro sangue poiché il Signore l'Eterno degli eserciti immola le vittime del paese del settentrione presso il fiume Eufrate sali a Galahad prendi del balsamo vergine figliuola d'Egitto in vano molteplici rimedi non v'è medicatura che valga per te le nazioni odono la tua ignominia e la terra è piena del tuo grido poiché il prode vascilla appoggiandosi al prode ambedue cadono assieme parola che l'Eterno rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Denabucadonestà re di Babilonia per colpire il paese d'Egitto annunziatelo in Egitto banditelo a Migdol banditelo a Noth a Tempanes e dite levati preparati poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda poiché i tuoi prodi sono essi atterrati non possono resistere perché l'Eterno li abbatte egli ne fa vacillare molti essi cadono l'un sopra l'altro e dicono andiamo torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio sottraiamoci alla spada micidiale la essi gridano faraone re d'Egitto non è che un vano rumore ha lasciato passare il tempo fissato com'è vero che io vivo dice il re che a nome l'Eterno degli eserciti il nemico verrà come un tabor fra le montagne come un carmel che s'avanza sul mare oh figliuola che abiti l'Egitto fai il tuo bagaglio per la cattività poiché Nof diventerà una desolazione sarà devastata nessuno vi abiterà più l'Egitto è una giovenca bellissima ma viene un tafano viene dal settentrione anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da ingrasso anche essi valgono poco volgono il dorso fuggono tutti assieme non resistono poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità il tempo della loro visitazione la sua voce giunge come quella d'un serpente poiché s'avanzano come un esercito marciano contro lui con scuri come tanti tagliaboschi essi abbattano la sua foresta dice l'Eterno benché sia impenetrabile perché quelli sono più numerosi delle locuste non si possono contare la figliuola dell'Egitto è coperta donta e data in mano del popolo del settentrione l'Eterno degli eserciti l'Idio di Israele dice ecco io punirò Amon di No faraone d'Egitto e i suoi dei i suoi re faraone quelli che confidano in lui li darò in mano di quelli che cercano la loro vita in mano di Nabucadenestar e di Babilonia e in mano dei suoi servitori ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima dice l'Eterno tu dunque non temere o Giacobbe mio servitore non ti sgomentare o Israele poiché ecco io ti salverò da lontano paese salverò la tua progenie dalla terra della sua cattività Giacobbe ritornerà sarà in riposo sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà tu non temere o Giacobbe mio servitore dice l'Eterno poiché io son teco io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso ma non annienterò te però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito Geremia capitolo quaranta settesimo la parola dell'Eterno che fu rivolta al profeta Geremia riguardo ai Filistei prima che Faraone colpisse Gaza così parla l'Eterno ecco delle acque salgono dal settentrione formano un torrente che straripa esse inondano il paese e tutto ciò che contiene le città e i loro abitanti gli uomini mandano grida tutti gli abitanti del paese urlano per lo strepito delle unghie dei suoi potenti destrieri per il rumore dei suoi carri e il fracasso delle ruote i padri non si voltano verso i figlioli tanto le mani son divenute fiacche perché giunge il giorno in cui tutti i filistei saranno devastati in cui saranno soppressi i restanti ausiliari di Tito e di Sidone poiché l'Eterno devasterà i filistei ciò che resta dell'isola di Kaftor Gaza è divenuta calva Ascalon è ridotta al silenzio i resti degli anachim fino a quando vi farete delle incisioni oh spada dell'Eterno quando sarà che ti riposerai rientra nel tuo fodero fermati e rimani tranquilla come ti potresti tu riposare l'Eterno le dà i suoi ordini le addita Ascalon e il nido del mare Geremia capitolo quarantottesimo così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio d'Israele guai a nebo poiché è devastata Chiriata imme coperta donta e presa Misgab è coperta donta e sbigottita il vanto di Moab non è più Esh Bon macchinan del male contro di lui venite distruggiamolo e non sia più nazione tu pure o bad man sarà ridotta al silenzio la spada ti insanguinerà delle grida vengono da Eronaim devastazione e gran rovina Moab è infranto i suoi piccini fanno udire i loro gridi poiché su per la salita di lui si piange si sale piangendo perché è giù per la discesa di Oronaim so del grido angoscioso della rotta fuggite salvate le vostre persone siano esse come una temerice nel deserto poiché siccome ti sei confidato nelle tue opere nei tuoi tesori anche tu sarai preso e che Moshe andrà in cattività coi suoi sacerdoti e coi suoi capi il devastatore verrà contro tutte le città e nessuna città scamperà la valle perirà e la pianura sarà distrutta come l'eterno ha detto date delle ali a Moab poiché bisogna che voli via le sue città diventeranno una desolazione senza che più vabiti alcuno maledetto colui che fa l'opera dell'eterno fiaccamente maledetto colui che trattiene la spada dallo spargere il sangue Moab era tranquillo fin dalla sua giovinezza riposava sulle sue fecce non è stato travasato da vaso an vaso non è andato in cattività per questo ha conservato il suo sapore e il suo profumo non si è alterato perciò ecco i giorni vengono dice l'eterno che io gli manderò dei travasatori che lo travaseranno vuoteranno i suoi vasi frantumeranno le sue anfore e Moab avrà vergogna di che Mosh come la casa di Israele ha avuto vergogna di Betel in cui aveva riposto la sua fiducia come potete dire noi siamo uomini prodi uomini valorosi per la battaglia Moab è devastato le sue città salgano in fumo il fiore dei suoi giovani scende al macello dice il re che ha nome l'eterno degli eserciti la calamità di Moab sta per giungere la sua sciagura viene a gran passi compiangetelo voi tutti che lo circondate e voi tutti che conoscete il suo nome dite come è sprezzato quel forte scetro quel magnifico bastone oh figliuola che abiti in dibon scendi dalla tua gloria siedi sul suolo riarso poiché il devastatore di Moab sale contro di te distrugge le tue fortezze oh tu che abiti in Aorer fermati per la strada e guarda interroga il fiugiasco ecco lei che scampa e di che è successo Moab è coperto donta perché è infranto mandate urli gridate annunziate sull'arnon che Moab è devastato un castigo è venuto sul paese della pianura sopra Olom sopra Jahaz su Maaf su Dibon su Nebo su Bed-Diblatahim su Kiriatahim e su Beth-Gamul su Beth-Meom su Kiriat su Bostra su tutte le città del paese di Moab lontane e vicine il corno di Moab è tagliato il suo braccio è spezzato dice l'Eterno inebriatelo poiché egli si è innalzato contro l'Eterno e si rotoli Moab nel suo vomito e diventi anch'egli un oggetto di scherno Israele non è egli stato per te un oggetto di scherno era egli forse stato trovato fra i ladri che ogni volta che parli di lui ti scuote il capo abbandonate le città e andate a stare nelle rocce o abitanti di Moab siate come le colombe che fanno il loro nido sull'orlo dei precipizi noi abbiamo udito l'orgoglio di Moab l'orgoglissimo popolo la sua arroganza la sua superbia la sua fierezza l'altericia del suo cuore io conosco la tua tracotanza dice l'eterno che è malfondata e le sue vanterie che hanno approdato a nulla stabilire perciò io alzo un lamento su Moab ed ho in gridi per tutto Moab perciò si geme per quelle di Chir e Res o vigna di Sibna io piango per te più ancora che Gisarer i tuoi rami andavano oltre il mare e arrivavano al mare di Gisarer e devastavano il devastatore piombato su tutti i frutti d'estate e sulla tua vendemmia la gioia e l'allegrezza sono scomparse dalla fertile campagna e dal paese di Moab io ho fatto venire meno il vino negli strettoi non si pigia più l'uva con grida di gioia il grido che sode non è più grido di gioia gli alti lamenti di Eshbon giungono fino a Lealel si fanno dire fino a Jahaz da Zohar fino a Ronaim fino a Elash Shelesha perfino le acque di Nimbrim sono prosciugate e io farò venire meno in Moab dice l'Eterno chi salga sull'alto luogo e chi offra profumi ai suoi dèi perciò il mio cuore geme per Moab come gemono i flauti il mio cuore geme come gemono i flauti per quelle di Kir Eres perché tutto quello che avevano ammassato è perduto poiché tutte le teste sono rasate tutte le barbe sono tagliate su tutte le mani ci sono delle incisioni e sui fianchi dei sacchi su tutti i tetti di Moab e sulle sue piazze dappertutto è lamento poiché io ho frantumato Moab come un vaso da cui non si fa stima di sorta dice l'Eterno come è stato infranto urlate come Moab ha avvolto vergognosamente le spalle come Moab è diventato lo scherno e lo spavento di tutti quelli che gli stavano dintorno poiché così parla l'Eterno ecco il nemico offende l'aria come l'aquila spiega le sue ali verso Moab che riot è presa le fortezze sono occupate e il cuore dei prodidi Moab in quel giorno è come il cuore di una donna in doglia di parto Moab sarà distrutto non sarà più popolo poiché sei innalzato contro l'Eterno spavento fossa laccioti sopprastanno abitante di Moab dice l'Eterno chi fugge dinanzi allo spavento cade nella fossa chi risale dalla fossa riman preso al laccio poiché io fo venire su lui su Moab l'anno in cui dovrò rendere conto dice l'Eterno all'ombra di Eshborn i fuggiaschi si fermano spossati ma un fuoco esce da Eshborn una fiamma di mezzo a Sihon che divora i fianchi di Moab il sommo dei capi dei figli del tumulto guai a te o Moab il popolo di Chemosh è perduto poiché i tuoi figlioli sono portati via in cattività e in cattività sono menate le tue figliole ma io farò tornare Moab dalla catavità negli ultimi giorni dice l'Eterno fin qui il giudizio su Moab Geremia capitolo quarantanovesimo così parla l'Eterno Israele non ha egli figlioli non ha egli erede perché dunque Malcom prendegli possesso di Gad e il suo popolo abita nelle città d'esso perciò ecco i giorni vengono dice l'Eterno che io farò udire il grido di guerra contro Rabb dei figlioli di Amon essa diventerà un mucchio di ruine le sue città saranno consumate dal fuoco allora Israele spodesterà quelli che l'avevano spodestato dice l'Eterno urla o Eshbon poiché hai è devastata gridate o città di Rabb cingetevi di sacchi date in lamenti correte qua e là lungo le chiusure poiché Malcom va in cattività insieme coi suoi sacerdoti e i suoi capi perché ti glori tu delle tue valli della tua fertile valle o figliuola infedele che confidavi nei tuoi tesori e dicevi chi verrà contro di me ecco io ti fo venire addosso tutti i tuoi dintorni il terrore del Signore l'Eterno degli eserciti egli viene e voi sarete scacciati in tutte le direzioni e non vi sarà chi raduni i fuggiaschi ma dopo questo io trarrò dalla cattività i figliuoli di Amon dice l'Eterno riguardo ad Edom così parla l'Eterno degli eserciti non ve egli più saviezza in tema gli intelligenti non sanno essi più consigliare la loro saviezza è essa svanita fuggite voltate le spalle nascondetevi profondamente o abitanti di Edam poiché io fo venire la calamità sopra Esau il tempo della sua punizione se i devendemmiatori venissero a te non lascerebbero essi dei raccimoli se i dei ladri venissero a te di notte non guasterebbero più di quanto a loro bastasse ma io nuderò Esau scoprirò i suoi nascondigli ed ei non si potranno nascondere la sua prole i suoi fratelli i suoi vicini saranno distrutti e i dei non sarà più lascia i tuoi orfani io li farò vivere e le tue vedove confidino in me poiché così parla l'eterno ecco quelli che non erano destinati a bere la coppa la dovranno bere e tu andresti del tutto impunito non andrai impunito tu la verrai certamente poiché io giuro per me stesso dice l'eterno bozza vi verrà una desolazione un obbrobrio un deserto una maledizione e tutte le sue città saranno delle solitudini eterne io ho ricevuto un messaggio dall'eterno e un messaggio è stato inviato fra le nazioni adunatevi venite contro di lei levatevi per la battaglia poiché ecco io ti rendo piccolo fra le nazioni e sprezzato fra gli uomini lo spavento che inspiravi l'orgoglio del tuo cuore t'ha sedotto e tu che abiti nelle fessure delle rocce che occupi il sommo delle colline ma quando anche tu facessi il tuo nido tant'alto quanto quello dell'aquile io ti farò precipitare di lassù dice l'eterno ed edom diventerà una desolazione chiunque passerà presso di lui rimarrà stupito e si darà a fischiare a motivo di tutte le sue piaghe come avvenne al sovvertimento di Sodoma e di Gamorra e di tutte le città loro vicine dice l'eterno nessuno più abiterà acquivi e non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo ecco egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte di Mora io ne farò fuggire a un tratto edon e stabilirò su di essa colui che io ho scelto perché chi è simile a me chi mi ordinerà di comparire in giudizio qual è il pastore che possa starmi a fronte perciò ascoltate il disegno che l'eterno ha concepito contro aedon e i pensieri che medita contro gli abitanti di teman certo saranno trascinati via come i più piccoli del greggio certo la loro dimora sarà devastata al rumore della loro caduta trema la terra so del loro grido fino al mar rosso ecco il nemico sale fende l'aria come l'aquila spiega le sue ali verso Bostra e il cuore dei prodi di Edom in quel giorno è come il cuore di una donna in doglie di parto in riguardo a Damasco Hamat e Arpad sono confuse poiché hanno udito una cattiva notizia vengono meno è un'agitazione come quella del mare che non può calmarsi Damasco diviene in fiacca si volta per fuggire un tremito l'accolta angoscia e dolori si sono impadroniti di lei come di donna che partorisce come mai non è stata risparmiata la città famosa la città della mia gioia così i suoi giovani cadranno nelle sue piazze e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno dice l'eterno degli eserciti ed io appiccherò il fuoco alle mura di Damasco ed esso divorerà i palazzi di Benadad riguardo a Kedar e ai regni di Azor che Nabucadenestare di Babilonia sconfisse così parla l'eterno levatevi salite contro Kedar distruggete i figliuoli dell'oriente le loro tende i loro greggi saranno presi saranno portati via i loro padiglioni tutti i loro bagagli i loro cammelli si griderà a loro spavento da tutte le parti fuggite dileguatevi ben lungi nascondetevi profondamente o abitanti di Azor dice l'eterno poiché Nabucadenestare re di Babilonia ha formato un disegno contro di voi ha concepito un piano contro di voi levatevi salite contro una nazione che gode pace ed abita in sicurtà dice l'eterno che non ha né porte né sbarre e dimora solitaria siano i loro cammelli dati in preda e la moltitudine del loro bestiame diventi bottino io disperderò a tutti i venti quelli che si tagliano i canti della barba e farò venire la loro calamità da tutte le parti dice l'eterno Azor diventerà un ricetto di sciacalli e una desolazione in perpetuo nessuno più abiterà qui vi non vi dimorerà più alcun figliolo d'uomo la parola dell'eterno che fu rivolta in questi termini al profeta Geremia riguardo ad Elam al principio del regno di Sedacchia re di Giuda così parla l'eterno degli eserciti ecco io sprezzo l'arco di Elam la sua principal forza io farò venire contro Elam i quattro venti delle quattro estremità del cielo li disperderò a tutti quei venti e non ci sarà nazione dove non arrivino dei fuggiaschi di Elam renderò gli elamiti spaventati dinanzi ai loro nemici e dinanzi a quelli che cercano la loro vita farò piombare su loro la calamità la mia ira ardente dice l'eterno manderò la spada di inseguirli finché io non li abbia consumati e metterò il mio trono in Elam e ne farò perire i re e i capi dice l'eterno ma negli ultimi giorni avverrà che io trarro Elam dalla cattività dice l'eterno Geremia capitolo cinquantesimo parola che l'eterno pronunziò riguardo a Babilonia riguardo al paese dei caldei per mezzo del profeta Geremia annunziatelo fra le nazioni proclamatelo issate una bandiera proclamatelo non lo scelate dite Babilonia è presa Bel è coperto d'onda Merodach ed è infranto le sue immagini sono coperte d'onda i suoi idoli infranti poiché dal settenzione sale contro di lei una nazione che ne ridurrà il paese in un deserto e non vi sarà più alcuno che abiti in lei uomini e bestie fuggiranno e se ne andranno in quei giorni in quel tempo dice l'Eterno i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda torneranno assieme cammineranno piangendo e cercheranno l'Eterno il loro Dio domanderanno qual è la via di Sion volgeranno le loro facce in direzione d'esse e diranno venite unitevi all'Eterno con un patto eterno che non si dimentichi più il mio popolo era un greggio di pecore smarrite i loro pastori le avevano sviate sui monti dell'infidelità essi andavano di monte in colle avevano dimenticato il luogo del loro riposo tutti quelli che le trovavano le divoravano e i loro nemici dicevano noi non siamo colpevoli poiché si hanno peccato contro l'Eterno dimora della giustizia contro l'Eterno speranza dei loro padri fuggite di mezzo a Babilonia uscite dal paese dei caldei e siate come dei capri davanti al gregge poiché ecco io suscito e fo salire contro Babilonia una dunata di grande nazioni dal paese del setentrione ed esse si schiereranno contro di lei e da quel lato sarà presa le loro frecce sono come quelle di un valente arciere nessuno d'esse ritorna vuoto e la caldea sarà depredata tutti quelli che la prenderanno saranno saziati dice l'Eterno si gioite si rallegratevi o voi che avete saccheggiato la mia eredità si saltate come una giovenca che trebbia il grano nitrite come forti destrieri la madre vostra è tutta coperta d'onta colei che va partoriti arrossisce ecco esse è l'ultima delle nazioni un deserto un'arrida terra una solitudine un motivo dell'ira dell'Eterno non sarà più abitata sarà una completa solitudine chiunque passerà presso a Babilonia rimarrà stupito e fischierà per tutte le sue piaghe schieratevi contro Babilonia ed ogni intorno o voi tutti che tirate l'arco tirate contro di lei non risparmiate le frecce poiché essa ha peccato contro l'Eterno levatevi contro di lei e il grido di guerra d'ogni intorno ella si arrende le sue colonne cadono le sue mure crollano poiché questa è la vendetta dell'Eterno vendicatevi di lei fate a lei come essa ha fatto sterminate da Babilonia colui che semina e colui che maneggia la falce del tempo della messe per scampare alla spada micidiale ritorni ciascuno al suo popolo fugga ciascuno verso il proprio paese Israele è una pecora smarrita a cui dei leoni è andato la caccia il re d'Assiria per primo l'ha divorata e quest'ultimo da Bucadenestà il re di Babilonia ne ha frantumate le ossa perciò così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio d'Israele ecco io punirò il re di Babilonia e il suo paese come ho punito il re d'Assiria e ricondurrò Israele ai suoi pascoli egli pasturerà Carmel in Basan e l'anima sua si sazierà sui colli di Efraim in Galahad in quei giorni in quel tempo dice l'Eterno si cercherà l'iniquità di Israele ma essa non sarà più e i peccati di Giuda ma non si troveranno poiché io perdonerò a quelli che avrò lasciati del resto sali contro il paese di Meretahim e contro gli abitanti di Pecod insegueli con la spada votali allo sterminio dice l'Eterno e fa esattamente come io t'ho comandato sode nel paese un grido di guerra è grande e il disastro come mai s'è rotto s'è spezzato il martello di tutta la terra come mai Babilonia è divenuta una desolazione fra le nazioni io t'ho teso un laccio e tuo Babilonia vi sei stata presa senza che te ne accorgessi e sei stata trovata ed arrestata perché ti sei messa in guerra contro l'Eterno l'Eterno ha aperto la sua armeria e ha tratto fuori le armi della sua indignazione poiché questa è un'opera che il Signore l'Eterno degli eserciti ha da compiere nel paese dei caldei venite contro a lei da tutte le parte aprite i suoi granai ammucchiatela come tante mannelle votatela allo sterminio che nulla ne resti uccidete tutti i suoi tori fateli scendere al macello guai a loro poiché il loro giorno è giunto il giorno della loro visitazione so della voce di quelli che fuggano che scampano dal paese di Babilonia per annunziare in Sion la vendetta dell'Eterno del nostro Dio la vendetta del suo Tempio Convocate contro Babilonia e gli arcieri tutti quelli che tirano d'arco accampatevi contro a lei d'ogni intorno nessuno ne scampi rendetele secondo le sue opere fate interamente a lei come ella ha fatto poiché ella è stata arrogante contro l'Eterno contro il Santo d'Israele perciò i suoi giovani cadranno nelle sue piazze e tutti i suoi uomini di guerra periranno in quel giorno dice l'Eterno eccomi a te o arrogante dice il Signore l'Eterno degli eserciti poiché il tuo giorno è giunto il tempo che io ti visiterò l'arrogante vacillerà cadrà e non vi sarà chi la rialzi e io appiccherò il fuoco alle sue città ed esso divorerà tutti i suoi dentorni così parla l'Eterno degli eserciti i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda sono oppressi insieme tutti quelli che li hanno menati in cattività li tengono e rifiutano di lasciarli andare il loro vindice è forte a nome l'Eterno degli eserciti certo egli difenderà la loro causa dando requi alla terra e gettando lo scompiglio fra gli abitanti di Babilonia la spada la spada sovrasta ai caldei dice l'Eterno gli abitanti di Babilonia ai suoi capi ai suoi savi la spada sovrasta ai millantatori che risulteranno insensati la spada sovrasta ai suoi prodi che saranno atterriti la spada sovrasta ai suoi cavalli ai suoi carri a tutta la cozzaglia di gente che è in mezzo a lei la quale diventerà come tante donne la spada sovrasta ai suoi tesori che saranno saccheggiati la siccità sovrasta alle sue acque che saranno prosciugate poiché è un paese di immagini scolpite vanno in delirio per quelli spauracchi dei loro idoli perciò gli animali del deserto con gli sciacalli si stabiliranno quivi e vi stabiliranno gli struzzi nessuno vi demorerà più in perpetuo non sarà più abitata ad età in età come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma e Gamorra e le città loro vicine dice l'Eterno nessuno più abiterà qui vi non vi dimorerà più alcun figlio d'uomo ecco un popolo viene dal settentrione una grande nazione e molti re sorgono dall'estremità della terra essi impugnano l'arco ed il dardo sono crudeli non hanno pietà la loro voce è come il muggito del mare montan cavalli sono pronti a combattere come un sole guardiero contro di te o figliuola di Babilonia il re di Babilonia no della fama e le sue mani si languidiscono l'angoscia lo coglie un dolore come di donna che partorisce ecco egli sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano contro la forte di Mora io ne farò fuggire ad un tratto gli abitanti e stabilirò su di essa colui che io ho scelto poiché chi è simile a me chi ordinerà di comparire in giudizio a me qual è il pastore che possa starmi a fronte perciò ascoltate il disegno che l'Eterno ha concepito contro Babilonia e i pensieri che medita contro i paesi dei caldei certo saranno trascinati via come i più piccoli del greggio certo la loro dimora sarà devastata al rumore della presa di Babilonia trema la terra e sode il grido fra le nazioni Geremia capitolo cinquantunesimo così parla l'Eterno ecco io faccio levare contro Babilonia e contro gli abitanti di questo paese che è il cuore dei miei nemici un vento distruttore e mando contro Babilonia degli stranieri che la ventoleranno e vuoteranno il suo paese poiché nel giorno della calamità piomberanno su di lei da tutte le parti tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco e contro chi serge fieramente nella sua corazza non risparmiate i suoi giovani votate allo sterminio tutto il suo esercito cadano uccisi nel paese dei caldei crivellati di ferite per le vie di Babilonia perché Israele e Giuda non sono vedovati dal loro Dio dell'Eterno degli eserciti e il paese dei caldei è pieno di colpe contro il santo di Israele fuggite di mezzo a Babilonia e salvi ognuno la sua vita guardate di non perire per l'iniquità di lei poiché questo è il tempo della vendetta dell'Eterno egli le dà la sua retribuzione Babilonia era nelle mani dell'Eterno una coppa d'oro che si inebriava da tutta la terra le nazioni han bevuto del suo vino perciò le nazioni sono divenute delirianti a un tratto Babilonia è caduta e frantumata mandate su di lei alti lamenti prendete del balsamo dal suo dolore e forse guarirà noi abbiamo voluto guarire Babilonia ma essa non è guarita abbandonatela e andiamocene ognuno al nostro paese poiché la sua punizione arriva sino al cielo si innalza fino alle nuvole l'Eterno ha prodotto in luce la giustizia della nostra causa venite raccontiamo in Sion l'opera dell'Eterno del nostro Dio forbite le saette imbracciate gli scudi l'Eterno ha eccitato lo spirito del re De Medi perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla perché questa è la vendetta dell'Eterno la vendetta del suo tempio alzate la bandiera contro le mura di Babilonia rinforzate le guardie ponete le sentinelle preparate gli agguati poiché l'Eterno ha visitato ed è già mette ad effetto sciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia o tu che abiti in riva le grandi acque tu che abbondi di tesori la tua fine è giunta il termine delle tue rapine l'Eterno degli eserciti ha giurato per se stesso sì certo io tempirò di uomini come di locuste ed essi leveranno contro di te grida di trionfo egli con la sua potenza ha fatto la terra con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza ha disteso i cieli quando fa udire la sua voce ve un rumore d'acque nel cielo e fa salire i vapori dall'estremità della terra fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi ogni uomo allora diventa stupido privo di conoscenza ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite perché le sue immagini fuse sono una menzogna e non v'è soffio vitale in loro sono vanità lavoro d'inganno nel giorno del castigo periranno a loro non si omiglia a colui che è la parte di Giacobbe perché egli è quel che ha formato tutte le cose e Israele è la tribù della sua eredità il suo nome è l'eterno degli eserciti oh Babilonia tu sei stata per me un martello uno strumento di guerra con te ho schiacciato le nazioni con te ho distrutto i regni con te ho schiacciato cavalli e cavalieri con te ho schiacciato i carri e che vi stava sopra con te ho schiacciato uomini e donne con te ho schiacciato vecchi e bambini con te ho schiacciato giovani e fanciulle con te ho schiacciato i pastori e i loro greggi con te ho schiacciato i lavoratori e i loro buoi aggiogati con te ho schiacciato governatori e magistrati ma sotto gli occhi io renderò a Babilonia e a tutti gli abitanti di Caldea tutto il male che han fatto a Sion dice l'Eterno eccomi a te oh montagna di distruzione dice l'Eterno a te che distruggi tutta la terra io stenderò la mia mano su di te e ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata e da te non si trarrà più pietra angolare né pietre da fondamenta ma tu sarai una desolazione perpetua dice l'Eterno issate una bandiera sulla terra suonate la tromba fra le nazioni preparate le nazioni contro di lei chiamate raccolta contro di lei i regni di Ararat di Minni e da Scanats costituite contro di lei dei generali fate avanzare i cavalli come locuste dalle ali ritte e preparate contro di lei le nazioni i re di media i suoi governatori tutti i suoi magistrati e tutti i paesi dei suoi domini la terra trema è indoglia perché i disegni dell'Eterno contro Babilonia si affettuano di ridurre il paese di Babilonia in un deserto senza abitanti i prodi di Babilonia cessano di combattere se ne stanno nelle loro fortezze la loro bravura è venuta meno sono come donne le sue abitazioni sono in fiamme le sbare delle sue porte sono spezzate un corriere incrocia l'altro e un messaggero incrocia l'altro per annunziare al re di Babilonia che la sua città è presa da ogni lato che i guadi sono occupati che le paludi sono in preda alle fiamme che gli uomini di guerra sono allibiti poiché così parla l'eterno degli eserciti l'ideo di Israele la figliola di Babilonia è come un'aia al tempo in cui si trebbia ancora un poco e verrà per lei il tempo della mietitura neca Budanestà il re di Babilonia ci ha divorati ci ha schiacciati ci ha posti là come un vaso vuoto ci ha ingoiati come un dragone ha impito il suo ventre con le nostre delizie ci ha cacciati via la violenza che mi è fatta e la mia carne ricadano su Babilonia dirà l'abitante di Sion il mio sangue ricada sugli abitanti di Caldea dirà Gerusalemme perciò così parla l'eterno ecco io difenderò la tua causa e farò la tua vendetta io prosciugherò il suo mare dissicherò la sua sorgente e Babilonia diventerà un monte di ruine e un ricetto di sciacalli un oggetto di stupore e di scherno un luogo senza abitanti essi rugiranno assieme come leoni grideranno come piccini di leonese quando saranno riscaldati darò loro da bere l'inebri roppo che siano allegri e poi si addormentino d'un sonno perpetuo e non si risveglino più dice l'Eterno io li farò scendere al macello come agnelli come montoni come capri come mai è stata presa a Sheshach ed è stata conquistata con lei che era il vento della terra come mai Babilonia è diventata una desolazione fra le nazioni il mare è salito su Babilonia essa è stata coperta dal tumulto dei suoi flutti le sue città sono diventate una desolazione una terra arrida un deserto un paese dove non abita alcuno per dove non passa alcun figlio il Duomo io punirò Bel in Babilonia e gli trarrò di gola ciò che ha trangugiato e le nazioni che non affluiranno più a lui perfino le mura di Babilonia sono cadute oh popol mio uscite di mezzo a lei e salvi ciascuno la sua vita dinanzi all'ardente ira dell'Eterno il vostro cuore non salvilisca e non vi spaventate delle voci che sudranno nel paese poiché un anno correrà una voce e l'anno seguente correrà un'altra voce vi saranno nel paese violenza dominatore contro dominatore perciò ecco i giorni vengano che io farò giustizia delle immagini scolpite di Babilonia e tutto il suo paese sarà coperto d'onta e tutti i suoi feriti a morte cadranno in mezzo a lei e i cieli la terra e tutto ciò che in essi giubileranno su Babilonia poiché i devastatori piomberanno sull'eda al settentrione dice l'Eterno come Babilonia ha fatto cadere i feriti a morte di Israele così in Babilonia cadranno i feriti a morte di tutto il paese o voi che siete scampati dalla spada partite non vi fermate ricordatevi da lungi dell'Eterno e Gerusalemme vi ritorni in cuore noi eravamo coperti d'onta all'udire gli oltraggi la vergogna ci copriva la faccia perché gli stranieri erano venuti nel santuario della casa dell'Eterno perciò ecco i giorni vengono dice l'Eterno che io farò giustizia delle sue immagini scolpite e in tutto il suo paese gemeranno i feriti a morte quando anche Babilonia si elevasse fino al cielo quando anche rendesse inaccessibili i suoi alti baluardi le verranno da parte mia dei devastatori dice l'Eterno giunge da Babilonia un grido la notizia di un gran disastro dalla terra dei caldei poiché l'Eterno devasta Babilonia e fa cessare il suo grande rumore le onde dei devastatori muggono come grandi acque se ne ode il fracasso poiché il devastatore piomba su lei su Babilonia i suoi prodi sono presi i loro archi spezzati già che l'Eterno è l'iddio delle retribuzioni non manca di rendere ciò che è dovuto io inebrierò i suoi capi e i suoi savi i suoi governatori e i suoi magistrati i suoi prodi ed essi si addormenteranno d'un sonno eterno e non si risveglieranno più dice il re che ha il nome l'Eterno degli eserciti così parla l'Eterno degli eserciti le larghe mura di Babilonia saranno spianate al suolo le sue alte porte saranno incendiate sicché i popoli avranno lavorato per nulla le nazioni si saranno stancate per il fuoco ordine dato dal profeta a Geremia a Serai figliolo di Neria figliolo di Measia quando si recò a Babilonia con Sedechia re di Giuda il quarto anno del regno di Sedechia Seria era il capo dei Ciamberlani Geremia scrisse un libro tutto il male che doveva accadere a Babilonia cioè tutte queste parole che sono scritte riguardo a Babilonia e Geremia disse a Seria quando sarà arrivato a Babilonia avrai cura di leggere tutte queste parole dirai o Eterno tu hai detto di questo luogo che lo avresti distrutto sì che non sarebbe più abitato né da uomo né da bestia e che sarebbe ridotto in una desolazione perpetua e quando avrai finito di leggere questo libro ti legherai una pietra e lo getterai in mezzo alle Eufrate e dirai così affonderà Babilonia e non si rialzerà più a motivo del male che io faccio venire su di lei cadrà esausta fin qui le parole di Geremia Geremia capitolo cinquantaduesimo Zedekia aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni sua madre si chiamava Amutal figliuola di Geremia di Libna Egli fece sciocca e male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Iacchim e a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò dalla sua presenza e Sedechia si ribellò al re di Babilonia l'anno nono del regno di Sedechia il decimo giorno del decimo mese Nabucadeneztar re di Babilonia venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme si accampò contro di lei e la circondò di posti fortificati e la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese allora fu fatta una breccia nella città e tutta la gente di guerra fuggì uscendo di notte dalla città per la via della porta fra le mura e la prossimità del giardino del re mentre i caldei stringevano la città da ogni parte e i fuggiaschi pressero la via della pianura ma l'esercito dei caldei inseguì il re raggiunse Sedechia nelle pianure di Gerico e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò allora i caldei pressero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla nel paese di Amat ed egli pronunziò la sua sentenza contro di lui il re di Babilonia fece scannare i figlioli di Sedechia in presenza di lui fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla poi fece cavare gli occhi a Sedechia e il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di rame e lo minò a Babilonia e lo mise in prigione dove rimase fino al giorno della sua morte ora il decimo giorno del quinto mese era il diciannovesimo anno di Nabucca de Nestar re di Babilonia Nabuzaradan capo della guardia del corpo al servizio del re di Babilonia giunse a Gerusalemme e arse la casa dell'Eterno e la casa del re diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme e arse tutte le case riguardevoli e tutto l'esercito dei caldei che era col capitano della guardia atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme Nabuzaradan capitano della guardia menò in cattività una parte dei più poveri del popolo i superstiti che erano rimasti nella città i fuggiaschi che saranno arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione ma Nabuzaradan capitano della guardia lasciò alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi i caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'Eterno le basi il mare di rame che era nella casa dell'Eterno e ne portarono via il rame a Babilonia pressero le pignate le pallette i coltelli i bacini le coppe e tutti gli utensili di rame con i quali si faceva il servizio il capo della guardia prese pure le coppe i brasieri e i bacini e le pignate i candelabri e le tazze i calici d'oro di ciò che c'era d'oro e d'argento di ciò che era d'argento quanto alle due colonne del mare e i dodici buoi di rame che servivano di base che Salomone aveva fatti fare per la casa dell'Eterno il rame di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile l'altezza l'altezza di una di queste colonne era di diciotto cubiti e a misurarla in giro ci voleva un filo di dodici cubiti aveva uno spessore di quattro dita ed era vuota e vera su un capitello di rame dell'altezza di ogni capitello era di cinque cubiti attorno al capitello vera un reticolato e delle melagrane ogni cosa di rame e lo stesso era della seconda colonna adornapure di melagrane verono novantasei melagrane da ogni lato e tutte le melagrane attorno al reticolato ammontavano a cento il capitano della guardia prese il seraia il sommo sacerdote sofonia il secondo sacerdote e i tre custodi della soglia e prese nella città un enucco che comandava la gente di guerra sette uomini di fra i consiglieri intimi del re che furono trovati nella città e il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e sessanta privati che furono anch'essi trovati nella città Nabusaradan capitano della guardia li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla e il re di Babilonia li fece colpire e mettere a morte a Ribla nel paese di Amath così Giuda fu menato in cattività a lungi dal suo paese questo è il popolo che Nabucatenestar menò in cattività il settimo anno 3.023 giudei il diciottesimo anno del suo regno menò in cattività da Gerusalemme 832 persone il ventitresimo anno di Nabucatenestar Nabusaradan capitano della guardia menò in cattività 745 giudei in tutto 4.600 persone il trentasettesimo anno della cattività di Joia Kim re di Giuda il venticinquesimo giorno del dodicesimo mese Evil Meradoc re di Babilonia l'anno stesso che cominciò a regnare fece grazia a Joia Kim re di Giuda e lo trasse di prigione gli parlò benignamente e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia gli fece mutare i suoi vestiti di prigione e Joia Kim mangiò sempre la tavola con lui per tutto il tempo che visse e in quanto al suo mantenimento durante tutto il tempo che visse esso gli fu dato del continuo da parte di re di Babilonia giorno per giorno fino al giorno della sua morte